Lei è la sorella della vittima? Io sono la sorella di Nunzia Castellano, mia sorella purtroppo il 14 novembre del 2003 è stata barbaramente assassinata dal suo ex ragazzo e diciamo dal desiderio forte di far sì che la memoria di mia sorella rimanesse viva nel cuore di tutti è nato sempre il desiderio di far sì che tutti conoscessero Nunzia e ho voluto fortemente scrivere una biografia dedicata a mia sorella, scritta a quattro mani con l'autrice Adelaide Camillo e questo libro pone l'accento al di là della vita di mia sorella, quindi una ragazza giovane con tanta voglia di vivere, di fare esperienze, di viaggiare pone molto l'accento su ciò che è una piaga sociale, la violenza contro le donne e noi anche attraverso la nostra associazione cerchiamo di dare il nostro, l'associazione porta proprio il nome di Nunzia e si chiama Associazione Nunzia Castellano insieme contro la violenza sulle donne proprio perché noi vogliamo cercare di aiutare tutte quelle donne che ci sentono vittime di sopprusi non hanno il coraggio di denunciare perché magari sanno che se denunciano non vengono poi in un certo modo aiutate, tutelate dallo Stato quindi noi siamo proprio qui a dire aiutiamo queste donne però non abbandoniamole ma lei è la prima del store Mondatori di Nola mi fa piacere inaugurare questo store che è bellissimo e spero che veramente io sarei contenta che almeno una donna che si sente come si è sentita mia sorella leggendo questo libro riesca ad avere la forza di dire basta a quello che sta subendo e di denunciare grazie grazie